Si lavora a ritmi serrati anche nel giorno dell'Immacolata, nel lab vaccinale di San Benedetto del Tronto. L'effetto Super Grip Pass si riflette sull'aumento delle inoculazioni, tra prime, seconde e terze dosi, come spiega ai nostri microfoni la dottoressa Maria Teresa Nespeca, direttrice del distretto sanitario sanbenedettese. Abbiamo quasi il 20% di prime dosi tra minori e adulti. E poi molti hanno, come dire, fatto la seconda dose che non avevano magari fatto nel tempo dovuto. Le terze dosi sono oltre il 70% delle utenti che accedono al centro, quindi sono la stragrande maggioranza. Nonostante i disagi legati ad una logistica complicata, al centro agroalimentare di Portodascoli la media delle inoculazioni sfiora a quota mille dosi giornaliere. Diciamo che noi ci aggiriamo dagli 800 ai 900 dosi al giorno, è uno sforzo veramente grande. Come vedete ci sono meno postazioni, ma nonostante questo i numeri sono veramente importanti, grazie al lavoro degli infermieri e dei medici che fanno turni anche di 12 ore continuative. Nel giorno dell'Immacolata la situazione è apparsa sotto controllo, ciò nonostante l'area vasta 5 continua a cercare una soluzione alternativa al centro agroalimentare. L'area vasta si sta impegnando, sta valutando soluzioni che avendo anche un costo economico devono essere valutate anche rispetto alla congruità della spesa che viene richiesta. Le scelte in ballo, insomma, tra quali sono? C'è stato un interpello a cui ha risposto un proprietario e adesso nei giorni scorsi si stavano valutando anche altre situazioni. Come se non bastasse a tutto ciò si aggiungono problemi di natura tecnica che negli ultimi giorni stanno interessando il portale online riservato alle prenotazioni. Purtroppo per i residenti a San Benedetto si sta verificando un problema tecnico che ancora il sistema informatico non ha risolto. Per molti sanmedettesi non c'è la possibilità di prenotarsi presso questo centro ma vengono dirottati verso Ascoli. Questo chiaramente crea disservizio e anche molto nervosismo. Venite comunque anche se non siete prenotati e noi vi trattiamo come prenotati cioè vi diamo il numero preferenziale per accedere però venite a vaccinarvi. Ho già fatto la dose numero? Tre. Le prime due, quale vaccino aveva ricevuto? Moderna, adesso moderna. Lei è di San Benedetto? Sì. Tu ho difficoltà con la prenotazione o? Sono venuta senza adesso, stavolta sono venuta senza, quindi è andata bene lo stesso. L'invito della Regione Marche è quello di seguire laddove è possibile il normale iter di prenotazione onde evitare file e attese che possono rivelarsi estenuanti.